Fernando Vitone, le cose vanno per il verso giusto, un'altra vittoria con la Re Canatese, però l'ancora non molla, nonostante lì ci siano delle polemiche, sono sempre a meno quattro. Sì, anche se stiamo facendo un grande campionato, basta una partita che va a starta, quindi si torna tutta la normalità. Noi dobbiamo stare attenti a questo e cercare di fare il più punti possibile e pensare a noi stessi, non ancora. Un Teramo che al di là dei risultati piace per il gioco che esprime, non sempre il bel gioco si abbina poi al risultato. Sì, soprattutto quando c'è il campo più grande sfruttiamo al meglio gli spazi, si è visto domenica, il primo tempo abbiamo giocato alla grande, il secondo forse un po' meno, però sappiamo che giocando così possiamo fare tanti punti e dobbiamo continuare su questa strada. Come è stato tornare a Pianodaccio? Sicuramente con il pubblico è un'altra cosa, soprattutto l'approccio alla partita, eravamo carichi, tutti con la voglia di metterci in mostra, penso che quella sia una cosa in più che dobbiamo sfruttare. La sensazione dall'esterno è che sembra che questa squadra tu la stia sentendo sempre più tua, ti muovi a tuo agio e hai innescato anche due gol, il secondo e il terzo con la Re Canatese, è un Vitone che ormai è padrone di questo centrocampo? No, non penso questo, siamo tutti importanti, ognuno ha il compito preciso, quello che ci dice il mister, adesso sta andando bene, ci capiamo al volo con tutti quanti, questo sì, però siamo tutti alla stessa pari. L'ultimo aspetto sul prossimo turno, se non sbaglio, l'ultima volta che sei andato a Trivento è andata male, indossavi la maglia del Chieti, proprio quel Trivento con un gol di Borrell interruppe la vostra striscia, auspichi che non vada a finire così questa volta? Per il risultato spero che non vada così, però per il risultato finale a maggio speriamo che ci porti bene, anche perché è un campo difficile, una squadra molto forte e dobbiamo stare attenti, può capitare di tutto in quella partita, quindi ce la dobbiamo mettere tutta, come abbiamo sempre fatto, sperando di portare i tre punti a casa.